La casa è quindi il nostro nido dell'anima ed è il feticcio fiscale di due, tre, quattro, cinque generazioni di italiani. La casa è anche un film horror che evoca inquietudine degli anni Ottanta di Sam Raimi, notissimo, ed è lo stesso tipo di sentimento, l'inquietudine, che viene evocato in chi mette mano oggi alla Tasi. È entrata la tassa sulla casa in vigore, non dappertutto, è una tassa variabile, non si capisce ancora bene come calcolarla, deve calcolare il contribuente, è una tassa unica, va solo sulla prima casa, insomma è un caos totale. Da questo caos cercheremo di uscire attraverso il servizio estremamente esaustivo di Gaia Giorgio Fedi. Via il servizio, a proposito poi alla fine nella casa morivano tutti, ma questo è un altro discorso. Grazie a tutti.